Venerdì 26 ottobre 2018. Mancano 66 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno dello scorpione. La chiesa ricorda Sant'Evaristo. L'Onomastico. Oggi è l'Onomastico di Evaristo. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Pinto. Dovrebbe derivare da soprannomi originati dal latino pingere, ossia dipingere, per identificare una persona di carnagione scura o con lentigini, oppure un pittore, colui che dipinge. Il cognome Pinto è molto diffuso in tutto il sud peninsulare mentre Pintus è specifico della Sardegna. Accadde oggi. Il 26 ottobre del 1954 Trieste ritorna all'Italia dopo l'amministrazione anglo-americana. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri alla tennista cieca Martina Navratilova, nata a Revinizza il 26 ottobre 1956. La citazione da ricordare. Dove vi è meno l'interesse? Vi è meno anche la memoria. Goethe. Dice il saggio. Non prendertela con Dio per aver creato la tigre. Ringrazialo per non averla fatta con le ali. Proverbio indiano. Un consiglio al giorno. La seconda metà del mese di ottobre è generalmente il periodo ideale per andare a caccia di castagne e marroni. Per pulire più facilmente le castagne, lasciatele per circa mezz'ora in uno scolapasta d'acciaio su una pentola piena d'acqua in ebollizione. La buccia verrà via subito!